Ciao a tutti, benvenuti oppure bentornati in questo nuovo video, questo è Disaster Makeup Qualcuno di voi si sarà chiedendo ma che vuol di Disaster Makeup? Disaster Makeup perché io non sono una mua, ovvero non una mua, ma una makeup artist professionista Io sono una ragazza alla quale piace truccarsi, mi è sempre piaciuto il makeup e ogni tanto faccio qualche errore Però dagli errori si impara sempre Per cui ancora, se non l'avete fatto e se vi va, seguitemi così insieme impareremo cose nuove Ovviamente per quanto riguarda il makeup Ma come avrete capito dal titolo di questo video, oggi siamo qua per qualcosa di veramente speciale Infatti Shiglem mi ha inviato questo botto di roba E visto che provarle tutte su TikTok mi sembrava impossibile perché è veramente tantissima roba Volevo provarla insieme a voi qui su YouTube Ma perché Shiglem mi ha inviato tutta questa roba? Perché sta facendo una mega promozione Dal 17 al 30 giugno ogni giorno ci saranno 5 prodotti in offerta a 2 euro E per scoprire quali sono questi prodotti giornalieri vi basterà andare nella barra di ricerca di Shane e scrivere Shiglem 2 euro In questo modo troverete subito i 5 fortunati Ma adesso basta parlare e è arrivato il momento di truccarsi E quindi io direi di andare a fare un makeup con tutti questi prodotti E ce ne sono tanti Ma abbastanza per fare un bellissimo makeup secondo me Vi avviso già che ci sono dei prodotti che io ho già diciamo in casa Per cui sono dei doppioni e non andrò ad aprire la scatola Ma magari userò il prodotto che ho già aperto Questo sicuramente lo apprezzerete perché non è bello sprecare le cose Anche perché una volta aperti hanno una scadenza e non è il caso E visto che oramai l'ho già tirato fuori Direi che possiamo partire già dalla base e dal primer Questo qui si chiama Good Grip ed è un primer idratante Io l'avevo già aperto, l'ho avuto già da un bel po' di tempo E mi trovo molto molto bene Quindi direi che è l'ideale da cominciare proprio da usare per la nostra base Io ne vado a mettere sempre due goccine E lo vado a spalmare così con le mani Ecco qui Una volta che l'ho steso si sente subito il Good Grip Diciamo la buona presa che lascia questo primer idratante Quindi oltre che idratare dà questa presa fantastica Per proprio andare ad aggrappare il nostro makeup Quindi il primo prodotto che potrebbe essere in offerta a 2€ E' proprio questo, il Good Grip Ma ora andiamo avanti Dopo aver messo il primer di solito si va a mettere il fondotinta E infatti eccolo qua Voglio provare questa novità di Shiglam Che è lo Skin Mag... Ma i nomi di Shiglam sono sempre fantastici Skin Magnetic Eye Coverage Foundation Stick Ammazza che sciogli lingua Ma questo è soltanto la prima volta che lo provo E wow, devo dire che vabbè A me mi si è aperto un po' male Però ha un bel pack Raga, guarda che carino Ha dentro anche la sua saccottina Che poi voi aprite E voilà, si svela il vostro fondotinta Ed essendo appunto in stick come c'è scritto fuori Così si presenta Questa è la tonalità Dovrebbe essere Fair Infatti Fair E forse Shiglam me l'ha inviata anche azzeccata per la mia faccia Per il mio viso, il mio incarnato Io andrei a provarlo subito E forse un po' troppo chiarino Mi sarò abbronzata in questi giorni Però raga, guardate come copre E' super coprente Per cui io direi Vado a metterne un po' sul viso E poi picchiettiamo Oppure col pennello No vabbè Ha una coprenza veramente fantastica Le mie occhiaie non ci sono quasi più Anzi vi dirò di più Vado a utilizzare il pennello Che ho trovato insieme agli altri prodotti Ed è proprio per il fondotinta Quindi vado a spalmare con questo Mi sembra di confermare il fatto Che sia troppo chiaro per la mia faccia Ma possiamo sistemarlo dopo Ok, ho una faccia bianchissima Però ha coperto veramente molto bene le imperfezioni Quindi io direi Prodotto super approvato Super super Vado a rimetterlo a posto Se lo quasi combina un macello E passerei al prossimo prodotto Che deve essere il correttore A trovarlo in tutto questo marasma Eccolo qui E' il liner magic 12 hour Full coverage Conceal Raga Ma che nomi Sempre i migliori Nella tonalità nude Questo non l'ho mai provato E' la prima volta che lo provo Ed è fatto così Con il suo pennellino In questo modo Vado a metterlo Nelle mie zone critiche Che chi mi conosce da tempo Anche da TikTok Sa che sono proprio le mie occhiaie Ecco questo Rispetto al fondotinta E' leggermente più aranciato Ma è giusto così Perché le occhiaie Si tolgono solo in questo modo Con l'arancione Soprattutto chi ha occhiaie Molto profonde Come le mie E' molto violace Direi niente male Non supera però Il mio preferito Che è questo qua Se lo trovo Che è il Complexion Boost Concealer Sempre nella tonalità nude Io con questo Mi trovo veramente molto bene Adesso oggi Volevo provare questo Perché è una novità Che io non ho mai provato Ma questo Non lo batte Non lo batte nessuno Raga Questo è il migliore Appuntatevelo Se avete l'occhiaio Come le mie Questo è il prodotto Della quale io non posso fare a meno Nella mia makeup routine E invece Qual è il vostro prodotto Della quale proprio Non potete fare a meno Nella vostra Makeup routine Scrivetemelo nei commenti Che li leggo volentieri Magari mi date anche qualche Altra tips Per il mio makeup Ma adesso Andiamo a dare colore A questo viso Un po' pallido In questo momento E andrei a utilizzare Questa novità Di She Glam E si chiama Anche qui C'ha un nome molto particolare Che non riesco a ricordarmelo Neanche sotto tortura Si chiama Fine line Two in one Nose contour And highlight pen Quindi In parole povere Aiuta a fare Il contour Al naso E ha Sia La parte contour In questo caso Un po' Grigiastro Sul grigiastro E dall'altra parte Invece Il Illuminante O A me sembra più Una tonalità correttore Questa Per aiutarti A dare l'illuminazione E il contorno Del naso Nei punti giusti Io Oggi ci vado A provare È proprio la prima volta Che lo testo E vorrei farmi Un nasino O perlomeno Ci provo Quindi Andrei a fare La linea Più sottile Così E il bottoncino Del naso In questo modo Da quello che ho capito È sfumabilissimo Con le dita Quindi Andrei proprio A far questo Nel frattempo Che faccio il contour Al naso Vi chiedo Di mettere Mi piace A questo video Così ne verranno Molti altri Ancora più belli Hai messo Mi piace al video Ti sto guardando E ti sto anche giudicando Ok Allora Io l'ho fatto C'è un leggero contour Ma ho sbagliato qualcosa io Perché lo vedo Veramente molto Molto leggero Non è questo Grandissimo contour Diciamo Spettacolare Provo a rifarlo Provo magari a rimanere Più stretta Magari un po' più dritta Sarebbe l'ideale Ok Forse marcando Un po' di più In effetti Si vede meglio Devo dire che Non è malissimo Probabilmente Ho sbagliato qualcosa io Ma sbaglierò spesso In questo video Non è male Dai Però adesso Andiamo a colorare Questa faccia Perché mi vedo Troppo bianca Quindi Andrei Io non lo so come mai A questo punto Io mi devo piegare le ciglia Perché se no Non riesco ad andare avanti Con il make up Perché mi vedo le ciglia Troppo dritte E quindi direi Che è arrivato il momento Di piegarle Questo non me l'ha mandato Shiglam Ce l'ho io L'ho comprato Adesso andrei a mettere Un pochino di colore Agli occhi E Shiglam Mi ha inviato Questa palette E si chiama Jazzy Zigzau Jazzy Zigzau Penso di averlo detto bene È il shadow palette Penso voglio dire Che questa è una palette A puzzle E infatti Si vedono sopra Le righe Del puzzle Ma questa Io Ce l'avevo già Aperta Quindi è un doppione Et voilà Ecco qua Com'è Aperta Si vede molto meglio Il fattore puzzle E dentro Ci sono I toni Del tortora Infatti Questa palette Si chiama Love and taupe Mi pare Non vorrei dire Stupidaggini Love and taupe Come vi dicevo Ci sono tutti I toni del tortora Alcuni sono Shimmer Alcuni sono Shine Shimmer and shine E tutti questi Insieme Cercheremo di metterli A fare Un Bellissimo Ombretto E io vorrei Utilizzare in tutto questo Un hack Che avevo provato A fare un po' di tempo fa Ovvero Fare un pennello piatto Prendere due colori E andarli A sfumare così Però prima Andrei a fare una base Andrei a fare una base Con questo colorino chiaro Così da fissare Anche il colore Della palpebra Una volta fatto Questo colorino Qua Andrei a utilizzare Questo hack E mi piacerebbe Avere Questo colore Un po' Diciamo Brillantinato E questo Un pochettino Più opaco Quindi vado A posizionarmi In mezzo A questi due E strofino Adesso non mi ricordo Dove ho messo il brillantinato Ok Vorrei avere Il brillantinato In fuori E l'opaco In dentro Devo dire Che sono riuscita A sistemarlo Abbastanza bene Mi piace lo stesso Anche se non è venuto L'h Che volevo Vado a fare la stessa cosa Nell'altro occhio Però adesso E voilà Sono riuscita Anche a mettere L'ombretto Anche se l'h Non è venuto Come volevo E' andato bene Lo stesso Secondo me Adesso però Andrei a mettere Un pochino di blush Sulle mie guance E per farlo Non siete pronti Ma siatelo Vado a utilizzare Questa palette Blush A tema A cuoricini Adesso ve la apro Ve la faccio vedere È fantastica Senza romperla Magari sarebbe l'ideale Eccola qua Questa è la palette Dedicata Ai cuoricini All'amore A tutto quello Che roseo E infatti dentro Vado a togliere la pellicola Riesco sempre Vedete che ci sono Tante sfumature Di blush E io oggi Vorrei usare Un blush Che mi faccia Diciamo un effetto Un po' scottata dal sole Senza scottarsi davvero Però Non troppo Rosa Pompato Ecco E vado allora A utilizzare Questo cuoricino qua Non ha un nome Quindi ve lo indico Questo cuoricino qui Pennellino Anzi Prima vado a mettere Qualche ditino così Sulle guance Mi piace l'effetto blush Ma non troppo Non mi piace mai Esagerare Quindi una cosina così Dovrebbe andare bene E con un pennellino Lo sfumo Si sfuma anche Molto bene Niente male Come avete visto Sì io provo a fare anche le cose Con la sinistra Anche se la mia mano Un po' Diciamo Non Primaria Ne basta veramente poco Ed ha un effetto blush Senza esagerare Si sfuma anche molto bene Bene Blush Messo Ora vado a mettere Il bronzer E il bronzer E questo liquid contour Che avrete visto sicuramente Mille volte Nei miei video E infatti Ce l'ho già aperto E ve lo faccio vedere Se lo trovo L'avevo messo qua vicino Apposta Ha deciso di farmi una sorpresa E comparire solo a fine video Non è Guarda Non è il momento Di fare sorprese Non l'ho neanche lasciato lì Quindi dove sei? Questa è bella Mi è sparito il contour Però visto che tanto comunque Era quasi finito Che sapete che vi dico Lo apro questo Se riesco Magari entro oggi Dicevo Visto che tanto Mi sta finendo L'altro Perché ne uso veramente tanto E quello che mi piace di più Vado allora ad aprire questo qua Se riesco ad aprirlo Perché le aperture Facilitate Vengono a tutti Tranne che a me Intanto io mi guardo intorno Per vedere se lo trovo Ma niente Non c'è Va bene Come dicevo il liquid contour È questo qui Nella tonalità Golden sun Io uso sempre questo Ne abuso Perché è quello Che mi piace di più Ora vado a metterne Un goccino così Qui sotto Qui sopra Per colorare un po' Tutto il fondotinta bianco Che ho messo finora E andrei a sfumare Finalmente ho il viso Che non sembra un cadavere E dopo aver fatto questo Però dobbiamo fissare Il tutto quanto E SheGlam mi ha inviato Un'altra cosa Che io non avevo mai provato Ed è questo fissante È carinissimo Perché è tutto lì Un po' di tutto patatoso Con questa cosina Così Mi piace un sacco E niente Andrei a metterlo Sto spruzzando in faccia In questo momento Ha un profumo Veramente buonissimo Dolce Leggermente Proprio una puntina di limone Sento Adesso mi metto Falle estimatrice di profumi Si chiama Loc Vabbè dai Insomma È questo qua Ci riprovo Si chiama Locked In Spray Setting E dura 16 ore Mo' Non lo so se dura 16 ore Ci proviamo a vedere se funziona Intanto Abbiamo dato una fissata Alla nostra base Adesso Il momento Che sinceramente Mi piace meno Ed è quello delle sopracciglia Vi spiego Io non sono una grande Truccatrice di sopracciglia Non è che mi piace proprio tanto Truccare le sopracciglia Perché penso che le mie Siano già abbastanza belle Di loro Però oggi Voglio provare Questi due prodotti Li voglio testare per voi Che magari le sopracciglia Le truccate Ed è questo Set me up Brow old Cioè un set Per settare Fermare Le sopracciglia Ed è dotato di colla Per le sopracciglia Ed è il pettinino Per andarle poi a pettinare Ma bisognerebbe Anche andarle a colorare O andare a delineare O andare a riempire Dei punti Un pochino vuoti Ed è per questo Che volevo provare Con voi Questa Better Brows Long Lasting High Brow Pencil Sempre più lunghi Sempre più difficili Un codice fiscale Sono questi nomi Però Devo dire Che secondo me Riuscirà ad aiutarmi Ed è nella tonalità Taupe Quindi anche questo Come la palette E sui toni Del Tortora Riuscirò ad aprire Anche questa Mannaggia Ci sono delle cose Che hanno la linguetta E tiri E fine Altre che Non trovi la linguetta Neanche sotto tortura Ok Questa L'abbiamo abbastanza Trovata in fretta Wow Ma Io Non me l'aspettavo Così carina Questa matita Allora Ah Praticamente Come si apre Non mi dire che ha messo Un'altra Ha messo un'altra pellicola Ha messo un'altra pellicola Mannaggia Forse però questa È più facile da levare E infatti Eccola qua Allora È fatta in questo modo Si apre così Ah Da questa parte C'è il pettinino Oddio Cos'ho tirato giù però Da questa C'è il Oh Che carino Ed è tagliato Praticamente È angolato Non so se lo vedete Ma è angolato Il pennino In modo tale Da aiutarti a fare Le sopracciglia Pelo per pelo Una per una E sembra tipo I taglierini Per capirci Quindi Io andrei a regolarlo Farlo un pochettino Più corto Se no Boom Cade giù E andrei a fare Qualche Pellino Qui e lì Devo dire niente male Vado a farlo anche di qua Confermo che non è per nulla male Per chi Non è molto bravo A fare Il contorno Delle sopracciglia Questo potrebbe essere Molto rivoluzionario Magari vuole fare solo Qualcosina come me Andare a riempire Qualche buchino O a farle Diciamo un pochettino Più delineate Potrebbe essere fantastico Ma adesso Andiamo Alla nostra colla Tutto da aprire Stamattina Ok Wow È una colla Trasparente Non si vede nulla Sembra un gel Trasparente Vado a prendere Il pennino Anzi C'è la spatolina dietro Che ti aiuta magari A metterla Sulle sopracciglia Basta veramente pochissimo Tolgo l'eccesso Vado con Il pennino E vado a fissare Le mie sopracciglia Per essere Diciamo appunto Non un addicted Devo dire che questo prodotto Mi è piaciuto molto Per niente male E ricordiamoci Che tutti questi prodotti Che io sto provando In questo momento Potreste trovarli In offerta A 2 euro In questo lasso di tempo Ovvero dal 17 Al 30 giugno Andiamo Alla prossima cosa La prossima cosa Che vado a utilizzare È una di quelle cose Che io Odio tantissimo Fare in video Perché Non mi viene mai bene Quando devo farla in video Sapete quando mi viene bene Quando non mi serve Ovvero L'eyeliner È un qualcosa Veramente Che non mi viene bene Quando mi sento Sotto pressione Voi non mettetevi pressione Fate così Mettete un cuoricino Così non mi mettete pressione In questo momento Nel frattempo Vi faccio vedere Questo eyeliner Che mi ha appunto Inviato Shiglem E si chiama Tenetevi pronti Multitasker Line and Detail Eyeliner Pen Vi spiego meglio Sono due eyeliner C'è la punta fine E la punta Leggermente più spessa Più a pennarello Proprio Mentre invece Questo è il tipico Eyeliner Che fa la linea sottile E io questa mattina Vorrei andare a utilizzare Proprio questa E fare Spero bene Una riga di eyeliner Che non sia Troppo marcata Che non mi faccia Proprio il pam Ok Tutto sommato Devo dire che Da questo lato Mi è venuta abbastanza bene Adesso vediamo dall'altro E già dall'altro Vediamo i primi difetti Infatti Non mi sembra Proprio preciso Come l'altro Ma ho imparato una cosa Che più tocchi E peggio è Quindi lasciamo così E vediamo Come risolvere dopo In una maniera Diciamo da maschera E volevo provare Questo eyeliner Sui toni del rosso Credo sia E lui si chiama Color Crush Gel Eyeliner Non so proprio Cosa aspettarmi Qua dentro Sinceramente Sinceramente Due Uh Mi aspettavo un rosso E invece un rosa Non so definire Che colore è È un Un rosto rosa Un salmonato Non saprei Comunque Io L'andrei A utilizzare Da mettere magari Qua sotto Non so se si vede Nel sotto Occhio Ho provato A mettere Un pochino Questa Io la definirei Più matita Che eyeliner È molto morbida E devo dire la verità Niente male Nulla proprio Da togliergli E sembra E sembra anche Molto resistente Adesso questa Che ho messo Sulla mano È difficile Da togliere Quindi avrà Una buona resistenza Ora Io ho piegato Le ciglia Prima Per una ragione Perché poi Vado a mettere Il mio mascara Preferito Che è lui È L'All in one Volume and length Mascara Questo qui Io ce l'ho Ovviamente Già in casa Quindi Non lo vado Ad aprire Ma vi posso Assicurare Che è uno dei Mascara più buoni Che io abbia Mai provato E ha due tipi Di scovolino Quello più cicciotto Lo chiamo io Che è quello Che io subito Vado a mettere Per dare corpo Alle mie ciglia E poi dopo Quello un pochettino Più sottile Tipo pettinino Che va proprio A pettinare Le mie ciglia E a renderle Più lunghe Cioè è finito Qualcosa dentro Adesso vado A farlo Ho dato corpo Alle mie ciglia Adesso vado A usare Il pettinino Facciamo sempre Delle facce buffissime Quando mettiamo Il mascara Non so perché Ok Questo è l'effetto Del mascara E io Lo adoro tantissimo A volte lo combino Con qualche altro Mascara E però devo dire Che già da solo Dà davvero Un effetto molto bello Però scrivetemi Nei commenti Qual è il vostro Mascara preferito Non importa se non esci Glam Qualsiasi altro tipo Di mascara Va benissimo Così magari Ne provo anche altre Nel frattempo Ora non so come mai Sembra che qualcosa Mi sia entrato negli occhi Beh è una cosa Che deve succedere Ovviamente ogni volta Che dopo che metto Il mascara Se non c'è qualcosa Che mi dà fastidio Negli occhi Non sono contenta È arrivato il momento Delle labbra Ed è il momento Che io stavo attendendo Con un pochettino Diciamo Di sorpresa Perché c'è qualcosa Che io non ho mai provato Ed è questo Jelly Wow Hydrating Lip Oil Nella colorazione Princess Vibes Cioè dice già tutto Questo dice già tutto Quanto E il pack È carinissimo È stupendo Ma guardate i brillantini Dentro È fantastico Io direi Andiamolo subito a mettere Do Ma lo vedete anche voi Ma raga Ma qui non si scherza Ma qua altro che Jelly No jelly Altro che Princess Vibes Qua proprio Siamo regine Ma stupendo Veramente stupendo Si è anche svegliata Una mosca In questo momento Mi devi rompere le scatole Al posto Fuori Fuori di casa Fuori Non è casa tua questa Fuori di qua Niente Non mi vuole ascoltare Nulla da fare Come al solito C'è qualcosa dentro l'occhio Ultima cosa da mettere Al nostro make up E quello che manca In tutto questo È un illuminante She Glam Mi ha inviato Il lunar glow Rosa Che io avevo già Quindi Non vado ad aprire questo Però vi ero Johnny Già dette E andiamo a provarlo E io vi dico già Che questo Ha un qualcosa Di veramente Fantastico Perché ne basta Veramente poco Se esageri Diventi Un lampadario E voilà Sei tutta bella Rosa Illuminata La mosca Intanto Che gira E voilà Questo è il make up Che siamo riusciti A realizzare Con tutte queste cose Che presto She Glam Metterà a 2 euro Io sono molto soddisfatta Di tutti i prodotti Che ho provato Qualcuno magari Tipo il fondotinta Era un pochettino chiaro Sì però Si può dopo sistemare Il naso Il naso Il naso che cola Un attimo Perché ho il naso che cola Per ultima cosa Ho tenuto Questo prodotto Che ha un qualcosa Di fantastico Per chi ama i brillantini E valsa la pena Aspettare la fine del video Questo olio Questo olio per il corpo Brillantinato Oggi è una bellissima giornata Di sole Estiva Ma non lo vogliamo mettere Un po' di brillantini Qui e lì Dai Sono sul dorato E fanno forse anche Quell'effetto Un po' Bronzatino Carinissimo Me ne vado a mettere Però ovviamente Non in faccia Altro che lampadario Me ne vado a mettere Un pochino Sul corpo E sulle braccia E voilà Questo è l'effetto Che lascia Sulla pelle Penso che ne abuserò Tutta quanta l'estate È veramente bellissimo Ragazzi Tutti i prodotti Per questo make up Sono finiti Sono veramente Molto soddisfatta Di averveli fatti vedere Mi piace anche molto Il make up Che è uscito fuori Ma voi Come sempre Nei commenti Scrivetemi Cosa ne pensate Di questi prodotti Se qualcuno di questi Li amate Anche voi alla follia Come li amo io Se avete qualche dritta Da darmi nei commenti Fatelo pure Ovviamente con gentilezza Perché comunque Dai Alla fine È vero Che magari sbaglio qualcosa Ma così pessima non sono Mettete mi piace A questo video Così da sostenere il canale E iscrivetevi Così da non perdervi Le prossime novità Che andrò a provare Ringrazio anche Shiglem Per avervi inviato Tutto questo Per sostenermi sempre Al prossimo video Un grande bacio Ci vediamo